Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo vlog, oggi vi porteremo là in cima a visitare il Grattacielo dell'inteso San Paolo di Torino, ci vediamo dopo. Grazie a tutti. 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 Vi fanno vedere dal terzo al trentacinquesimo piano, non c'è niente di particolare a parte la vista, nulla da vedere. Loro parlano tanto di questo giardino botanico, ma lascia molto desiderare. Questo video è finito e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!